Lo scarto dei voti, davvero minimo, che si registra allo Stato tra le prime due coalizioni della Camera. Secondo i nostri ultimi dati, confermati anche dal sito del Viminale, siamo sotto lo 0-4. In queste condizioni, come sempre avviene negli Stati Uniti, l'autorità preposta alla diffusione dei dati ufficiosi non può che dichiarare il too close to call, cioè l'impossibilità di dichiarare il vincitore considerato lo scarto irrisorio di voti a livello percentuale e a livello assoluto. Solo gli uffici centrali circoscrizionali e solo l'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione potranno calcolare con certezza, sulla base dei verbali di tutte le sezioni, la coalizione che ha effettivamente conseguito il maggior numero di voti ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza nazionale.